Ciao, benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Voltime e l'analisi ciclica per quanto riguarda l'indice DAX. Indice che è completamente bloccato in laterale da grossomodo i primi giorni del mese di dicembre, nello specifico a partire dal 13 di dicembre, quindi mercato che diventa difficile da lavorare in multi-day. Se non mi conosci mi presento, sono Paolo Pesino, sono il fondatore del sito tradingpertutti.com e ti invito ovviamente a visitarlo. Ti invito anche a iscriverti al canale Tegan, anzi a unirte al canale Tegan gratuito, dove riceverai tutti i giorni le due analisi multi-day ciclica gratuite che vado a caricare su YouTube e anche a rotazione un'analisi con il setup di ingresso degli strumenti che vado a lavorare almeno una volta al giorno se nel canale premium ovviamente ho più di un'indicazione giornaliera. Se sta cercando un servizio di segnali intraday sui futures, sei nel posto giusto, prezzo 49 euro al mese, qui puoi vedere le performance, il mese di gennaio sta andando molto bene, siamo a 50 punti sul Nasdaq, 16 punti sull'S&P, 98 punti, 9,8 dollaro di movimento per quanto riguarda il gold, mancano i tre punti che è il breakeven che abbiamo preso ieri sul DAX perché vado a segnare, perché 10 breakeven fanno 30 punti, tanto per intenderci, quindi è giusto andarli a segnare. I segnali si compongono, sono molto precisi, quelli che vado a rilasciare perché prima do un alert con innanzitutto al mattino quando c'è possibilità dico quale sarà lo strumento che andremo a lavorare e la direzione che andremo a lavorare, quindi molto importante tutto ciò. Dopodiché se si viene a formare ovviamente il setup allora arriva l'alert, immediatamente prima arriva ciò che faremo, arriva l'alert, il segnale di ingresso e poi durante il trade ci sarà tutta la gestione con tanto di screen di che cosa sta accadendo, di dove è arrivato il mercato e quant'altro, fino a quando si arriva chiaramente come in questo caso uno stop loss a pareggio e poi la chiusura dell'operazione, quindi saprai con ore e ore di anticipo quale sarà lo strumento che andremo a lavorare e quale sarà la direzione che lo strumento prenderà, quindi qualcosa di unico nel panorama dei segnali di trading. Ore aperto per questo weekend e poi se ne riparlerà dopo l'estate, l'accesso al corso dell'analisi ciclica e volumetrica o come va di modo a chiamarla adesso l'academy ciclica e volumetrica, qua puoi vedere tutte le informazioni, prezzo promozionale a 1399 euro dove troverai, come puoi vedere, tutto ciò che serve per imparare a lavorare con l'analisi ciclica, stessa cosa per quanto riguarda il corso dell'analisi volumetrica, il corso credo più completo che ci sia perché non ci sono ore di chiacchiere quanto sono bello, come va la storia dei volumi, quando sono nati, l'evoluzione dei volumi, tanto per riempire con termini allucinante ma è un conto 100% pratico, tutti i video di questo corso sono assolutamente sui grafici, quindi come si dice, monitor alla mano, non si dice così, grafico alla mano, fare vedere a azione corrisponde, o meglio a visualizzazione corrisponde a reazione del mercato. Indicatore volumetrica, ovviamente lo strumento principe per l'analisi ciclica, non esiste nulla di equiparabile al mio strumento per fare l'analisi ciclica, è totalmente automatico, individua lui i cicli, le calcola la durata media e te la proietta nel futuro. Puoi selezionare uno o più cicli, quindi avere una sinusoide unica oppure una sinusoide decomposta come quella che vedi nelle mie analisi quotidiane per sapere in anticipo che cosa farà il mercato. Tanto per dirti, il long del DAX di Yelpomrigine 15 l'ho previsto alle 10.57 del mattino e lo puoi vedere sui canali Tegan, perché l'ho anche postato sui canali gratuiti. Avrai anche a disposizione due ore di coaching direttamente da fare con il sottoscritto, cosa che suggerisco di fare dopo aver chiaramente visto i video formativi. Naturalmente canali Tegan di supporto per poter lavorare con chi già lavora con l'analisi ciclica. Questo è il prezzo di listino di 1.700 euro e c'è uno sconto, visto che do l'opportunità due volte all'anno di poter entrare, e di acquistare il tutto a 1.399 euro. Direi di continuare con la nostra analisi. Come dicevo, totalmente in laterale, non c'è veramente niente da poter fare sul DAX. Il nostro livello di riferimento sono i massimi che possiamo vedere qua. Quindi stiamo parlando dell'area di massimi del 31 luglio 2023. Vado anche a posizionarlo qua. Morire se l'ho azzeccato. Tutto quest'area, quindi 16.544, 16.449, stiamo parlando in questo caso del cash, come puoi vedere, nel DAX sarà l'area dove potremo andare a cercare un ribasso. Togliendo il ciclo da 20 giorni, vediamo che abbiamo un ciclo da 80 giorni che ha il suo minimo previsto intorno al 5 di febbraio. Quindi in realtà spazio per scendere ce n'è ancora, però ovviamente il mercato deve chiudere sotto il supporto. La cosa interessante che stiamo vedendo è che il mercato ormai vede le medie mobili quasi attaccate al momento in cui si posizionerà al di sotto di S e allora si potrà iniziare a cercare delle indicazioni ribassiste. Andiamo sull'H4 velocemente, cerchiamo di capire se abbiamo già modo di poter scegliere delle indicazioni a ribasso. Direi al momento di no, devo mettere un ciclo a 5 giorni, no, un ciclo a 2 giorni, ovviamente non ha senso metterlo sull'H4. E dovremo aspettare che venga rotto il minimo di riferimento. In questo caso il minimo di riferimento è questo, non è questo. Quindi quando il mercato compierà un movimento del genere potremo andare a cercare sicuramente una direzione ribassista. Per il momento quindi rimaniamo alla finestra, ci aggiorniamo poi settimana prossima sperando che il DAX sia uscito da quest'area di laterale. Mi raccomando, non farti scappare l'opportunità di iscriverti al servizio segnali o al corso di analisi ciclica e volumetrica o all'indicatore Volten per poter imparare a prevedere i mercati e ottenere i risultati che hai visto che tutti i giorni io dimostro di ottenere. Con questo è tutto e ti auguro una buona serata. Ciao ciao!